Siamo in località Cerratina di Lanciano, oggi l'assessore Nicola Campitelli, assessore regionale, sta facendo una visita qui al cantiere dove sorgerà il parco della transizione ecologica, assessore. Sì, è uno dei cantieri strategici per la nostra regione, per raggiungere quegli obiettivi nobili che ormai noi ci siamo posti di raggiungere, come quella della transizione ecologica. È il cantiere attualmente comunque in fase di realizzazione un impianto di compostaggio finanziato con 14 milioni di euro i fondi cipe, è propedeutico all'impianto di biodigestore anaerobico, altri 14 milioni di euro per la realizzazione di questo impianto. Dove noi come Regione Abruzzo abbiamo avuto un ruolo strategico nel coordinare le società, i comuni tra di loro, proprio per raggiungere questi obiettivi molto importanti. È un impianto biodigestore anaerobico, quindi si produrrà fertilizzante e compost per l'agricoltura, quindi a favore degli agricoltori, e nello stesso tempo produce biometano, circa 3.500 metri cubi all'anno. E per lo più ci sarà un abbattimento dei costi, perché i costi di trattamento ovviamente saranno inferiori, che significa che questo impianto, così come altri impianti che nasceranno da qui in avanti nella nostra regione, saranno impianti sostenibili, non solo dal punto di vista ambientale, ma soprattutto anche dal punto di vista economico per i cittadini, perché se il percorso, se tutto l'iter per il trattamento ovviamente avrà un costo inferiore, significa che anche le bollette dei cittadini potranno essere inferiori. L'anno scorso la posa della prima pietra di questo cantiere, presidente Massimo Ranieri, cronoprogramma dei lavori? Adesso stiamo realizzando l'impianto di compostaggio, finanziato in parte dal Cipe per 8 milioni, l'investimento di 14, da cronoprogramma i lavori dovrebbero terminare alla fine dell'estate. E poi successivamente abbiamo in ballo anche il digestore, che stiamo predisponendo gli atti per la gara. Da qui produrremo appunto compost di qualità dall'impianto di compostaggio. Una volta realizzato anche il digestore produrremo biometano, per circa 3 milioni e mezzo l'anno di metri cubi, che per il momento abbiamo deciso di rimettere nella rete DSG che passa qui accanto all'impianto.